Il concerto, perché i concerti sono fatti da musica, da chi canta, ma soprattutto da chi condivide lo spettacolo a un incontro come questo di stasera. Quindi, io fino all'ultimo pezzo di sudore starò su questo palco e voi dovete promettermi che andrete a casa tutti senza voce, sudati e più innamorati. Quindi, questo non è un concerto, questo è un incontro, stampatevelo in testa, questo è un incontro. Funziona solo se stiamo? Sì! Non ho capito, se stiamo? Sì! Così, andiamo.